La stagione a celle è stata una stagione estiva molto positiva anche grazie al tempo, in quanto il caldo e il sole ha giovato per l'economia ligura. Un punto su cui lavorare è sicuramente la permanenza del turista medio nei nostri paesi, perché si è sempre più accorciato e quindi diminuiscono anche i margini di guadagno da parte delle strutture alberghiera. Però non possiamo dire di essere soddisfatti della stagione estiva. Sicuramente bisogna fare uno studio del settore del comparto turistico e definire quelle che sono le nicchie di settore. In quanto il turismo è suddiviso in vari target, un target sportivo, un target relax ad esempio. Quindi bisognerà andare a creare un'offerta turistica cucita su quello che è il target di riferimento. Celle con le varie strutture si sta adoperando in questo frangente e sicuramente dovrà implementare quello che è la spesa pubblicitaria per farlo conoscere a un vasto pubblico. Le potenzialità di Celle sono molteplici. Una di queste è sicuramente il mare, il mare che in questa stagione è stato estremamente bello e pulito. Abbiamo la fortuna di avere un borgo caratteristico dove i bambini e le famiglie possono passeggiare tranquillamente senza la presenza di macchine. Un altro punto di forza di Celle Ligure è sicuramente il suo introterra con le sue frazioni che non sono ancora prese in considerazione ma che in futuro questo avverrà.